Ecco a voi un grande mass degli anni 20 rivisitato in chiave vegetale. Un non vitello, non tornato. L'ho voluto sperimentare in due versioni. La prima con due batate tagliate a fettine e lasciate marinare in salsa di soia, olio, aceto balsamico per circa mezz'ora, disposte poi su una teglia e cotte in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. Per la seconda versione ho utilizzato una zucca violina tagliata a fettine, marinate, disposte e cotte nelle stesse modalità e tempistiche delle batate. A 450 grammi di ceci lessati aggiungiamo due cucchiai di salsa tahin, il succo di un limone, 200 ml di bevanda vegetale, due cucchiai di capperi, due cucchiaini di senape, due pezzi di alganori, olio, sale e frulliamo fino a raggiungere una consistenza cremosa. Sforniamo le nostre batate e componiamo il piatto. Salsa in abbondanza e qualche frutto di cappero. Un goccio d'olio e per chi vuole una macinata di pepe. Il risultato è davvero simpatico. Ho seguito lo stesso procedimento con la zucca. Alla vista è davvero invitante. Anche per oro. Ha il gusto davvero davvero squisito. La presenza dell'alganori conferisce un gusto piuttosto marino al piatto. Quale versione avrò preferito? Batate o zucca?